Renato, oggi, a questa parte, meno due minuti. Al mio 52esimo coprià. 52esimo coprià. Parla, 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 parla. Siete dettagli che ha messo la barba di merda. Siete dettagli che ha messo la barba di merda, parla, parla, parla. Siete dettagli che ha messo la barba di merda che ha messo. Siete dettagli che ha messo la barba di merda che ha messo. Te spacco, eh. Coi piccou? Te spacco! Coi piccou? Te spacco! E io a sofrir. E io a sofrir, io, capo che. E io a sofrir. E io a sofrir, io, capo che. Perché? Come ti voglio padre? che spacco e grave, perché se te taglié barba, dovevessi decidere spacco e grave. Grazie. Una volta in punti di pianto, un mochino adesso. Fatti piange, eh? Una volta in punti di pianto, un mochino adesso. Fatti piange, eh? Una volta in punti di pianto, un mochino adesso. Fatti piange, fatti piange, eh? No ti sei mai sta bello, ma è l'unica roba che è la mia. Che va, che va, che va! Che bello! Guarda i denti! Guarda i denti! Guarda i denti! Non ti sei mai stato bello! Guarda i denti! Guarda i denti! Guarda i denti! Guarda i denti! Attenta un attimo! Aspetta un attimo! Attenta un attimo! Attenta un attimo! Aspetta un secondo! L'intervista è impossibile! Siamo tornati senza volendo siamo tornati all'intervista. Diciamo! 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 Senza volendo siamo tornati all'intervista. Diciamo! Diciamo! Caro Renato, questi 4 bambini si amo. Stavamo dicendo, stavamo dicendo che se ti tagli la barba c'è l'unica roba bella che ti porta a essa persona. Le spacchiamo le gambe, senza volendo siamo tornati a ritrovire. Quindi se stavamo dicendo che fra un anno stavamo dicendo, stavamo dicendo, stavamo dicendo, a fra un anno, senza volendo siamo tornati a ritrovire. A fra un anno, vedrai ancora Renato, su questo video, su questo video, su questo video, su questo video, stavamo dicendo. Stavamo dicendo, su questo video, su questo video, fra un anno, voi dicendo che non si ha tagliato la barba. Perché se si era tagliato la barba, se non dime. Ese magico, papà bella che ti porta a essa persona. Ese magico, papà bella. Ese magico, papà bella. Stavamo dicendo che lo stavamo dicendo. Ese magico, papà bella. Ese magico, papà bella. Buongiorno. Tanti auguri a Erma Tanti auguri a Erma